State ascoltando SPS Italian. State ascoltando il podcast di Radio SBS in italiano dedicato alla lingua veneta. Oggi ne parliamo con un vero e proprio esperto che è arrivato dall'Italia, Alessandro Mocellin. Benvenuto a Radio SBS. Grazie, grazie mille. E con lui lo accompagna anche Fabio Sandonà che vive invece qui a Melbourne ma è consultore della regione veneto. Buongiorno. Buongiorno a te Magica e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora innanzitutto lingua veneta, già questo magari sorprenderà alcuni. Non parliamo di dialetto ma di lingua. Spesso si dice che un dialetto è una lingua senza esercito. Come definiamo la lingua veneta? Beh se la mettiamo su questo punto di vista che è un punto di vista anche sociolinguistico in realtà forse il veneto tra le varie lingue regionali d'Italia non riconosciute perché in Italia sono comunque riconosciute alcune lingue come il friulano, il sardo sono lingue minoritarie riconosciute. In realtà il veneto, se dovessimo pensarlo dal punto di vista anche dell'esercito, della marina, ha avuto la repubblica più lunga della storia dell'umanità, la repubblica veneta, la repubblica di Venezia. Pertanto direi che anche quell'eventuale requisito è sicuramente soddisfatto. Ma a parte questo, insomma, dal punto di vista proprio della linguistica, il veneto è una lingua differente dall'italiano come del resto anche il siciliano, il napoletano, il piemontese sono lingue differenti dall'italiano perché l'italiano, dal punto di vista genealogico-linguistico, è il toscano in realtà. La lingua di Dante, Petrarca, Boccaccio, però nello stesso periodo di Dante, Dante stesso diceva beh, in Italia ci sono 14 lingue e lui stesso, Dante Alighieri, nel divulgare eloquenzia, dice ci sono 14 lingue, tra queste una è quella dell'area veneta, area che lui conosceva molto perché è stato molto a Verona, è stato anche a Venezia. Ecco, quindi il veneto sicuramente è una lingua e magari potremmo anche valutare sul piano grammaticale proprio le molte differenze che il veneto ha con l'italiano e paradossalmente, è il posto giusto per dirlo, somiglianze con l'inglese, in cose che l'italiano... Ci fa qualche esempio concreto perché all'ascolto ci sono sicuramente tante persone di origine veneta, altre no. Certo, beh, per esempio, dal punto di vista forse proprio più semplice da capire, perché ci sono tante parole chiaramente differenti per dire, non so, anche la parola sedia in italiano, in veneto è carega. Beh, in inglese chair, carega, e l'inglese chair vengono entrambi dal greco, invece la parola sedia viene dal latino, e questo è un piccolo esempio. Ma in realtà, dal punto di vista della sintassi, proprio della grammatica in senso stretto, il veneto ha un paio di regole che sono intanto le hard way phrasal verbs come in inglese, cosa che in italiano non esiste, e il veneto soprattutto ha l'inversione interrogativa come l'inglese. Quindi se io in inglese dico you are crazy, è un'affermazione. Se devo fare la domanda, devo invertire you e are, e dire are you crazy? Ecco, la stessa identica cosa si fa in veneto. Te, si, matto, domanda, si, tomato. Quindi l'inversione interrogativa, cosa che si fa in inglese, in tedesco, in francese, tu e fu, et tu fu, du bist, dum bist, du dum. In questo si differenzia dall'italiano. Assolutamente, perché in italiano non si può fare l'inversione interrogativa, perché non è proprio possibile grammaticalmente. Quindi un'ennesima prova, anche diciamo molto concreta, del fatto che il veneto è sicuramente una lingua differente dall'italiano. Del resto nessun linguista dice che il veneto è un italiano parlato nell'area veneta. No, no, è una lingua differente. Ecco, viene trattato come dialetto, come del resto anche siciliano e napoletano, per questioni sociolinguistiche. Cioè non viene, non so, non si utilizza per scrivere le leggi regionali. Ma questo non perché a Venezia non si utilizzasse il veneto per scrivere statuti, leggi, regolamenti. Si utilizzava sì. Quindi è solo una questione in realtà di volontà. Il veneto linguisticamente è perfettamente in grado di fare tutto quello che fa l'italiano. Però all'interno del veneto ci sono tante varianti diverse. Come si sa, in Italia magari si viaggia per pochi chilometri, già cambiano tante cose. Quanti varianti principali ci sono? Diciamo che le macro varianti principali del veneto sono tre. Si sente soprattutto, poi ci sono sfumature, magari il bellunese, quindi nel nord del veneto c'è un veneto più conservativo, un po' più arcaico, quindi un po' più difficile da ascoltare, diciamo da capire immediatamente. Bisogna un po' adattare l'orecchio. Ma in realtà le voci principali si sentono anche nel numero, per esempio, dico sempre nel numero 5. In veneto si può dire in tre modi diversi, 5, 5 o 5, a seconda delle zone. Ma attenzione che anche in italiano è così, perché il numero che noi diciamo 5 al nord, da Roma, anzi in realtà dalla Toscana in giù, diciamo, quindi più del 50% dei parlanti italiani, non dice 5, dice 5. I romani, i toscani, i nepoletani dicono 5, la città, i cittadini. E questa cosa non è mica 5 città, cittadini. Sono due varietà diverse dell'italiano. Un altro esempio, in Veneto, non solo in Veneto, ma nel Veneto in Australia, nel Veneto in Brasile, nel Veneto in Slovenia, nel Veneto in Croazia, nel Veneto in Messico, esistono comunità in tutti questi luoghi. La parola casa si dice solo casa ovunque. Invece in italiano ci sono diverse varietà. Al nord si dice casa, al sud si dice casa, e in Toscana si può dire la casa o la casa. E sono quattro varietà della parola casa. E quindi anche l'italiano ha lo stesso problema. Ma se il Veneto dovessimo definirlo un dialetto perché varia, beh, anche l'italiano sarebbe un dialetto. Ma l'italiano non è un dialetto, e infatti neanche il Veneto. Alessandro Mocellin è il nostro ospite di oggi, e naturalmente un linguista, lo avrete capito se vi siete sintonizzati troppo tardi, e si occupa in particolare di lingua veneta. Tra l'altro in un'accademia vera e propria dedicata a questa lingua, l'Accademia della Buona Creanza, ve la dico bene? Correttamente, perfetto. Perché la Buona Creanza? Avevamo desiderio di fare un po' come è stato fatto per il Toscano, dove si è creato in realtà un nome, l'Accademia della Crusca non si chiama Accademia della Lingua Italiana, nemmeno della lingua toscana, che in realtà originariamente era proprio questo. Un nome un po' più obliquo, diciamo, e anche un po' più ampio. In realtà ci piaceva molto questa espressione, aver buona creanza, che vuol dire comportarsi bene, in maniera educata, ecco, ma anche perché le iniziali sono ABC e questo dà un po' l'idea dell'inizio e anche della solidità, insomma, dei fondamentali. E in realtà l'Accademia della Buona Creanza si occupa, attraverso l'occhio, diciamo, della lingua veneta, si occupa anche di storia veneta, di diritto, di economia, quindi, insomma, è un'Accademia che ha dei propri dipartimenti interni, insomma, delle specie di facoltà. Ma è un'istituzione privata, giusto? È assolutamente un'istituzione privata, anche se, per esempio, nel tempo, nelle varie collaborazioni che abbiamo costituito e costruito, abbiamo, per esempio, avuto e verrà rinnovato un accordo quinquennale di cooperazione internazionale con l'Università Federale di Santa Maria in Brasile, perché c'è la seconda comunità venetofona, cioè di parlanti veneto più grande del mondo. E siamo stati in diversi luoghi del mondo per, appunto, per la lingua veneta. Abbiamo fatto anche degli accordi con l'Università di Padova per delle ricerche, appunto, sulla lingua veneta. E abbiamo organizzato due convegni internazionali sulla lingua veneta con ospiti da tutto il mondo, compreso il professor Mosley, che è australiano, tra l'altro di Sydney, che è il curatore dell'Atlante Mondiale delle Lingue per l'UNESCO. E questo è stato veramente interessante perché la lingua veneta è veramente già internazionale, non solo perché il Veneto ha dato molte parole all'inglese, e anche questa è una cosa da dire. Per esempio, Arsenal, Gazette, Ciao. Ecco, una parola che non è l'inglese, ma sicuramente è internazionale. Sono tutte parole venete. Quindi è una lingua che è regionale, ma ha l'interessante caratteristica di essere, di avere una, come dire, un occhio internazionale. La parola Ciao, tra l'altro, è davvero internazionale, la conoscono tutti. Da cosa deriva? Mi pare dalla parola schiavo, giusto? Esatto, sì. Dalla parola Sciao, appunto, quindi italiano schiavo, in Veneto Sciao, poi abbreviata, insomma, in Ciao. E perché questo? Perché in realtà era, non era un, non ha niente a che fare con la schiavitù, anzi, era proprio il modo in cui i nobili, in maniera assolutamente esagerata, si dicevano sono schiavo, sono a tua totale disposizione, quindi una deferenza, insomma, completa. E quindi questo è diventato un saluto, in realtà, assolutamente diffuso. Anzi, possiamo dire che a Venezia, al caso di dirlo, la schiavitù è stata abolita nel 960 d.C., quindi quasi 900 anni prima della famosa abolizione da parte dell'impero britannico. Quindi, insomma, uno Stato che ha ancora qualcosa da dire, non solo perché è stato uno degli Stati, anzi, forse quello più lungo nella storia dell'umanità. Noi abbiamo anche Fabio Sandonà qui in studio con noi. Fabio Sandonà, naturalmente, è Veneto. Di quale area linguistica, però? Provincia di Vicenza. Veneto centrale, diremmo. Veneto centrale. Fabio, naturalmente, sta accompagnando Alessandro Mocellin perché c'è una serie di eventi che si terranno in questi giorni, a Melbourne in particolare, insieme al professore, proprio per parlare di lingua veneta. Esatto, magica. Abbiamo avuto l'opportunità di presentare alla regione del Veneto questo nostro progetto culturale denominato La Nostra Lingua, Our Language, che, appunto, grazie alle competenze del professore Alessandro Mocellin, istruirà la comunità veneta locale, ma non solo sulla ricchezza e sulla bellezza del nostro idioma veneto. Abbiamo, appunto, in programma cinque attività specifiche. La prima effettuata all'Oxavia College il lunedì 9 settembre, la seconda in programma il Coasit di Calton, martedì 10 settembre, con un escursus e un approfondimento su Dante Alighieri, la Divina Commedia, per poi ritornare sempre a Calton il giovedì sera di settembre, quindi dopo, tra qualche giorno, per approfondire specificatamente l'idioma veneto, per poi andare al Savoy Club, a Mitterford, quindi nel country Victoria, dove abbiamo due associazioni di referenti, quindi i Vicentini e i Trevisani, per poi tornare al Veneto Club, a Boulin, quindi alla Casa dei Veneti di Melbourne, per un'attività conclusiva del sabato 14 settembre. Tutte opportunità per incontrare Alessandro Mocellin, naturalmente anche per parlare un po' di Veneto. Ha già avuto opportunità di conoscere qualcuno della comunità locale, a parte Fabio, naturalmente? Sì, è stato molto interessante vedere come ci sia un continuo, si chiama in linguistica, code mixing e code switching, e quindi un cambio anche non solo tra inglese e veneto, e anche ovviamente anche con l'italiano, ma anche addirittura la possibilità di sentire diverse varietà del Veneto, nella stessa appunto, magari qualcuno che ha un genitore o un nonno triestino e un altro trevisano, e sentire insomma le due varietà insieme. E questo è anche un... Dovemmo ricordarci che la varietà linguistica è una cosa fisiologica nelle lingue. In ogni lingua c'è, in ogni comunità c'è questa varietà, ed è una cosa preziosa, perché il nostro cervello diventa più plastico, diventa più flessibile, più lingue noi parliamo, più il nostro cervello si fa, diciamo, non sono anticorpi, ma uso questo termine propriamente, anticorpi contro l'invecchiamento cerebrale. Quindi prendiamolo come una cosa veramente utile, una medicina ottima, parlare Veneto e qualsiasi altra lingua in più, che possiamo conoscere facilmente, lingua patrimonio, ma anche lingue di altre, insomma, chiaro che la nostra lingua madre è sempre assolutamente importante, ci fa essere svegli plastici e quindi anche comprendere meglio la matematica. Questo dicono anche gli studi di neurolinguistica, anche per l'apprendimento chiaramente scolastico, insomma. Un artista molto famoso australiano, Marco Fusinato, di origine Veneta, ci diceva che quando torna in Italia, parla con le persone anziane del paese da cui venivano i suoi e tutti dicono parli come mio nonno, perché usa ancora delle espressioni che non si usano più tanto correntemente. Si sono cristallizzate, si sono cristallizzate, la stessa cosa, la stessa sensazione che si ha anche con il Veneto brasiliano, dove si cristallizzano magari alcune forme, altre, tuttavia vediamo che in realtà con il contatto linguistico favorito dalle tecnologie, perché ricordiamoci che fino a pochi anni fa quello che stiamo facendo ora, qui stiamo appunto, siamo a Meldor, ma volendo potrà essere ascoltata anche da qualunque altra parte del mondo questa nostra intervista ed è una cosa incredibile e questo sta modificando anche il nostro approccio alle lingue, perché in ogni momento possiamo ascoltare informazioni, video, abbiamo appunto anche il canale Veneto Express Channel che nonostante il nome in inglese al momento fa soprattutto cose proprio in Veneto, sul Veneto, e possiamo, come dire, ascoltare le lingue e apprenderle e utilizzarle sempre di più, e questo è molto interessante. Fabio, quanto si parla ancora al Veneto nella comunità veneta d'Australia, cioè anche tra i giovani, le seconde, le terze, addirittura le quarte generazioni? Secondo me, se magari fino a qualche anno fa c'era un po' di reticenza nel parlare o nell'esprimersi in Veneto, nel mio quotidiano penso di poter dire che invece negli ultimi anni c'è una ripresa della volontà e della voglia di imparare e di riscoprire quelli che appunto sono anche le origini linguistiche dei discendenti e quindi a me sembra che siamo sulla buona strada, sulla giusta direzione, ecco appunto dove questa nostra progettualità si sta inquadrando per appunto anche spiegare ancora di più a seconda e terze generazioni di Veneti ma non solo locali la nostra ricchezza e tutto quanto di buono la nostra lingua veneta ha. Alessandro Mocellin, quanto si parla al Veneto in Veneto tra i giovani, giovanissimi magari? Allora, c'è un po' lo stesso problema nel senso che c'è una percezione che ci sia ancora un po' di stigma nei confronti non solo del Veneto chiaramente ma anche del napoletano del siciliano le prendo sempre come lingue di riferimento perché hanno una storia sociolinguistica molto simile sono lingue che non hanno vinto la battaglia per diventare l'italiano l'ha vinta il toscano però sono ancora le lingue più parlate dopo l'italiano parliamo di circa 4-5 milioni di parlanti per ciascuna di queste il napoletano forse anche di più il napoletano in senso lato non è solo la città di Napoli e quindi è un patrimonio importante che si rischia appunto di far restare dialetto quando in realtà dialetto non è mai stato chiaramente si è puntato molto sull'italiano ma ormai vorrei dire io sono insegnante di italiano voglio dire italiano storia e geografia ritengo che ormai la battaglia sull'italiano sia vinta quindi possiamo evolverci e apprendere e ricordare e recuperare non solamente con un'idea di passato solamente di famiglia di nostalgia ma proprio con un'idea in realtà di ricreare una comunità di parlanti che è genuinamente italiano anche questo cioè ricordiamoci che ai tempi di Dante ma anche fino a tutto l'ottocento anche gli intellettuali si parlavano tra di loro o in latino vero o in toscano quindi in italiano ma in realtà alla fine la loro vita quotidiana era nella propria lingua locale Manzoni stesso ha scritto due volte i Promessi Sposi per modificare gli aspetti linguistici perché si è accorto che in realtà la sua competenza in una lingua tutto sommato appresa un po' come il latino una lingua non familiare ha dovuto si è messo a riscrivere i Promessi Sposi 13 anni dopo aver pubblicato la prima edizione del 1827 perché si è accorto che linguisticamente c'era da sistemare personalmente Alessandro Mocellin com'è imparato il Veneto il proprio Veneto perché poi ce ne sono tanti dicevamo sì esatto beh abbiamo la fortuna che in Veneto in realtà nei manuali di dialettologia impropriamente detta dialettologia diciamo su delle lingue ecco che ci sono in Italia il Veneto è uno è definito come il caso tipico di lingua coine cioè di una varietà che dicevo prima il Veneto centrale che si è amalgamato diciamo ha amalgamato più città e più territori diciamo tra Verona Vicenza Padova parte del Trevisano e parte del Veneziano si è creata un amalgama unico che viene definito il Veneto centrale che è la base di riferimento diciamo per uno standard linguistico anche che c'è ed è stato elaborato anche è stata approvata che è una grafia ufficiale della lingua veneta in tutte le sue varietà nel 2017 ho dimenticato prima di dire che l'Accademia della Buona Creanza nel 2022 è diventata la settima ONG in Italia ad essere riconosciuta come ONG diciamo con funzioni consultive per la Convenzione Unesco del 2003 e quindi questa attestazione internazionale insomma che ci ci fa ben sperare e siamo presi l'incarico un po' anche di tutte le lingue d'Italia insomma non solamente del Veneto chiaramente perché le dinamiche sono simili e queste lingue sono un patrimonio che va ritenuto e va assolutamente promosso io ho imparato il Veneto per venire alla domanda ho imparato il Veneto chiaramente in famiglia ma anche qui giustamente i giovani adesso hanno meno facilità ad impararlo in famiglia e spesso c'è un po' appunto uno stigma come dicevamo prima mi è capitato qualche anno fa in una scuola elementare di parlare un po' così era una giornata proprio dedicata al Veneto con filastroche canzoni e a un certo punto abbiamo detto dai diciamo insieme i giorni della settimana e ricordo benissimo che abbiamo detto luni marti e qualcuno erano circa 150 ragazzini bambini insomma qualcuno ha detto Ergore però timidamente qualcuno lo stava per dire ma ha guardato la maestra per sapere per capire se era autorizzato ricordo in particolare anzi era una bambina se era autorizzata a dirlo perché lo sapeva quindi questo significa che è un patrimonio ancora diciamo latente in un certo senso va sviluppato come con la consapevolezza che si tratta di una lingua e peraltro non una lingua né piccola né diciamo poco importante se vogliamo ragionare anche così ed è il motivo anche per cui siamo qui Fabio Sandorà e Alessandro Mocellin grazie per essere stati con noi volete magari salutare in Veneto magari quello della vostra zona gli ascoltatori e le ascoltatrici un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici un arrivederci magari ad una delle attività che questa settimana abbiamo in programma grazie ancora Alessandro Mocellin per tutta la tua competenza la tua professionalità grazie agli amici della SBS in particolare a te Magica per tutto il tuo lavoro sulla lingua e non solo ma quello era in italiano però non siamo abituati eppure dobbiamo immaginare che si parlava in Veneto dicevano quando mandavano gli ambasciatori a Costantinopoli il bailo dicevano anche al sultan parleghe in venezian come dire cioè il fatto di essere sicuri nella propria lingua in realtà è un fattore di sicurezza anche di autostima personale quindi non togliamoci l'autostima che in Italia l'abbiamo bisogno un po' tutti quindi grazie a tutti quanti adesso vi parlo in Veneto gran volentiera è veramente una bella esperienza per me essere qua e per l'Accademia e per tutti i Veneti in quel mondo perché vi posso dire per sicuro che dal Brasile vi vorrà sapere cosa che siamo dovuti fare e come che siamo dovuti andare la lingua veneta la cultura veneta è anche questo è una roba piccola che però è grande grazie Alessandro allora finisco grazie ancora a tutti gli ascoltatori un saluto arrivederci speriamo fra qualche giorno a una delle attività ripeto che chiese questa settimana Calton Mitterford Veneto Club vi aspettiamo tutti a braccia aperte grazie a tutti e due io non vi rispondo in Veneto beh grazie se puoi dire ho lontane origine ma non le conosco grazie ciao cliccate mi piace condividete commentate seguite SPS Italian su Facebook grazie a tutti